Cosa fai a Capodanno? Cosa fai a Capodanno? A Capodanno vai a letto presto, chiudi le ante, invece che alle cinque, alle nove di sera, un bel brindisi, e dopo ti svegli presto e vai in montagna. Il Brianzolo quando va in montagna e non c'è nessuno c'ha un piacere, parte alle sette e viene giù alle dieci già finito e fa non c'è nessuno, non c'è nessuno! Un animale sociale il Brianzolo. Tutto filterone di c'era un sacco di gente. Noi invece abbiamo trovato nessuno e quindi, e quindi la mattina di Capodanno il Brianzolo va al cornizzolo, da solo, felice, perché la montagna è gratis, è sana e non ti contagia. Auguri ne!